sei collegato tu direi tu sei tu sei pepi ora che ti faccio più pubblicità come tu fanno loro che stanno live però vabbè io vado a provare a questo live siamo live perché è bello che sia live ora vi faccio Instagram direttamente ma figurati ragazzi stiamo live a via griglie dei cristallini numero 51 qua da peppe ha due figli di paglialuno pizza pizza connection pizza 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 Paranunan